Salve, sono Nevio Coglianese e ci troviamo a Fauglia, nella Villa Conti. E questa è la mia seconda passione, che è l'arte culinaria, e ci troviamo ovviamente in una cucina. La mia passione per la cucina mi ha portato a conoscere, 25 anni fa, un grandissimo e bravissimo chef, Bruno Lenati, conosciuto a Istanbul, se una piacera. Passo la parola a... Buongiorno, io sono Bruno Lenati, sono responsabile di questa cucina, grazie a un grande amico Nevio e sua moglie. Qui facciamo dei bei piatti, a base di pesce, a base di carne, oggi sto preparando un bel risotto alla milanese, patate saltate, pollo alla cacciatora, e poi c'è una bella rista al forno. Il pane lo facciamo noi, i grissini lo facciamo noi. Grazie a questo grande signore, che è un grande amico, e cerchiamo di andare bene. Grazie e arrivederci.